Ben trovati all'appuntamento con detto il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana per questo nostro incontro. Abbiamo scelto due argomenti, uno è estremamente importante perché si entra proprio nel vivo del lavoro del Consiglio regionale della Toscana, vi dico questo perché sono state rinnovate all'unanimità gli uffici di presidenza di tutte le commissioni, quindi confermati Presidenti e Vice Presidenti delle sette commissioni a metà legislatura. E poi è stata donata anche l'altro tema al Consiglio, un'opera della mostra Enduring Freedom, una tela esposta nel 2022. Andiamo subito a parlare del primo tema, le commissioni consigliari. Sono importanti e fondamentali perché la loro funzione è quella di preparare gli atti, i provvedimenti consigliari, ma anche un'azione consultiva. è veramente fondamentale poi il loro lavoro, i consiglieri sono suddivisi nelle varie commissioni e sono state appunto rinnovate con voto unanime tutte le cariche istituzionali di queste sette commissioni permanenti del Consiglio regionale al termine proprio del passaggio di metà legislatura. Il Presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, ha presiduto la votazione e all'insediamento dell'Ufficio di Presidenza. E quindi la prima commissione affari istituzionali, programmazione e bilancio ha confermato il Presidente Giacomo Bugliani, la Vicepresidente Elisa Tozzi, segretaria, Valentina Mercanti, la seconda commissione sviluppo economico e rurale ha confermato il Rarabuggetti Presidente, Vittorio Fantozzi Vicepresidente e Mario Puppa segretario. La terza commissione sanità e politiche e sociali ha confermato i sostegni alla Presidenza, Andrea Ulmi Vicepresidente e Andrea Vanucci segretario. La quarta commissione territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture ha confermato la presidenza di Lucia De Robertis, del Vicepresidente Alessandro Capecchi e il segretario Cristiano Benucci. La quinta commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali ha confermato Cristina Giacchia alla Presidenza, Vicepresidente è Luciana Bartolini, segretario Marizio Sguanci. La commissione di controllo ha confermato il Presidente Alessandro Capecchi, Vicepresidente Andrea Pieroni, la segretaria Silvia Noferi. Voto unanime, infine, anche per la conferma dell'Ufficio di Presidenza delle commissioni politiche europee e relazioni internazionali con il Presidente Francesco Gazzetti, il Vicepresidente Giovanni Galli e la segretaria Anna Paris. Oggi è stata l'occasione della riconferma dell'Ufficio di Presidenza della prima commissione. Sono onorato che mi sia stata confermata la fiducia come Presidente di commissione per questa seconda metà di mandato, una seconda metà di mandato nella quale ci saranno molte tappe importanti per l'attività della prima commissione, prima tra tutti l'approvazione del programma regionale di sviluppo che dovrebbe avvenire entro pochi giorni e poi usualmente le tappe della prima commissione che vanno dall'approvazione del bilancio a tutte le variazioni di bilancio ai documenti di economia e finanza, ovvero ai capisaldi di quella che è l'attività finanziaria e quindi anche di governo della nostra regione. La prima commissione è carica di adempimenti non soltanto in questo ambito ma anche in altri settori. A breve avremo nella commissione anche le relazioni dei garanti, del difensore civico, quindi momenti importanti per la vita istituzionale di questa regione. Con questo rinnovo di mandato, che riguarda non soltanto la Presidenza ma anche la Vicepresidenza, la consigliera Elisa Tozzi e anche la consigliera segretaria Valentina Mercanti, sono sicuro che si potrà ripartire al meglio per portare a compimento tutte le importanti attività che ci attendono. Devo dire che sono particolarmente soddisfatta della riconferma Vicepresidente, segno che in questa commissione abbiamo cercato per quanto possibile di trovare dei punti d'incontro e un equilibrio anche nell'ambito di quelle che sono le attività che caratterizzano il nostro lavoro. La nostra commissione è una commissione che si occupa di atti finanziari, di tutto quello che è poi la legislazione in generale. Riuscire a trovare un equilibrio e un metodo di lavoro è molto importante anche perché questo segna anche l'efficienza della commissione. Il lavoro è stato proficuo e io credo che in questi due anni e mezzo riusciremo sicuramente a portare avanti delle sfide importanti che partono sia dall'imminente approvazione del piano regionale di sviluppo ma abbiamo davanti a noi anche altre sfide importanti. Penso anche a un'attività riformatrice, abbiamo parlato molto spesso della necessità di intervenire sul riforma del regolamento, abbiamo affrontato modifiche statutarie ma sicuramente non mancheremo di portare avanti altre iniziative di questo tipo. Un'attività legislativa che sicuramente in questi ultimi due anni e mezzo dovrà caratterizzarsi per una maggiore intensità anche in un'ottica di semplificazione. Sarà un lavoro importante per i prossimi due anni e mezzo, un lavoro che abbiamo iniziato e che ora dobbiamo portare a conclusione con le sfide che abbiamo di fronte sui temi strategici per la nostra regione, quindi il tema del lavoro, il tema delle imprese, il tema dello sviluppo agricolo, turismo, commercio, caccia, quindi tutti quei temi su cui abbiamo pronte anche tante proposte e su cui abbiamo tutta la voglia e l'intenzione di continuare a fare un ottimo lavoro nell'interesse di tutta la Toscana. È il secondo tempo di una partita giocata all'insegna del coinvolgimento e della condivisione, non sono mai mancati gli spunti critici ma sono sempre stati propositivi, questo dobbiamo ringraziare l'ufficio di presidenza di questa commissione, la Presidente Bugetti e lo spirito collaborativo di tutti gli altri componenti della commissione e l'obiettivo ora chiaramente è cercare di fare il punto su quelle che sono le sfide più importanti di questo mandato per tutti i toscani. Abbiamo fatto un lavoro importante nella prima metà della legislatura regionale con il lavoro degli stati generi della salute, ora è un momento comunque complicato per il sistema sanitario dove ci sono tante sfide sul personale, sugli investimenti, sull'organizzazione del territorio, sull'innovazione tecnologica e quindi ci aspetta un lavoro importante per questa ulteriore metà di legislatura, sono contento che tutta la commissione e il consiglio regionale e tutto abbia confermato la fiducia nei confronti del lavoro che io e l'ufficio di presidenza tutto abbiamo fatto. Abbiamo lavorato bene in questi due anni e mezzo, per quanto mi riguarda faccio il vicepresidente, quindi sono il rappresentante dell'opposizione all'interno di quella che è la commissione forse più significativa della regione, cioè quella sulla sanità, gli affari sociali e lo sport. Sono onorato di avere questo ruolo e mi impegnerò come ho fatto fino adesso. È venuta sì a una limitata parte della commissione, ringrazio il presidente per la proposta, i colleghi non solo per avermi confermato in questo incarico ma per l'aiuto e il supporto che hanno dato durante questi due anni e mezzo. Credo che gli impegni che abbiamo da qui a fine legislatura siano importantissimi, primo fra tutti il piano dei rifiuti che ci vedrà impegnati in sede di audizione di confronti con il territorio, con gli stakeholder, insomma con tutti i soggetti che possono aiutare a dare un piano all'altezza di questa meravigliosa regione. Ce la metteremo tutta nell'ascolto, nella sintesi e con l'aiuto credo dei commissari di maggioranza e di minoranza faremo un buon lavoro. Qualità di vicepresidente, continuerò ad occuparmi dei temi a me cari dall'assetto del territorio all'ambiente, allo sviluppo delle infrastrutture, abbiamo grandi temi che ci aspettano in modo particolare attualmente il piano dei rifiuti e continueremo a lavorare naturalmente ciascuno dalle proprie posizioni come abbiamo fatto fino ad oggi per due anni e mezzo fino alla fine della legislatura e sono per questo orgoglioso e contento di portare avanti questo lavoro. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi due anni e mezzo, abbiamo avviato gli stati generali della cultura in Toscana che si stanno avviando alla fine, insomma è stato un periodo denso di scoperte per tanti consiglieri, di familiarizzazione con un mondo che è il mondo del lavoro in campo culturale che a volte sfugge ai più per le dimensioni e per l'importanza di questa quota di lavoratori e devo dire che dopo la pandemia è stato anche bello poter supportare queste categorie di lavoratori che anche nei ristori avevano avuto difficoltà a trovare riconosciute le proprie aspettative e il danno ricevuto. Quindi due anni e mezzo di lavoro intenso per un settore che riteniamo sia strategico per le politiche regionali, non soltanto perché la cifra culturale è una componente importante dell'identità toscana ma anche perché si tratta di un settore a forte tasso di innovazione, di occupazione giovanile e di imprenditoria innovativa. Quindi c'è molto ancora da lavorare per far essere questo asset sempre più strategico nelle politiche di sviluppo della Toscana. E portare a termine gli stati generali della cultura, un lavoro che abbiamo iniziato già da molti, quindi sì che continua a proseguire per fare una nuova legge sulla cultura in Toscana. La Commissione Controllo sta recuperando centralità nel lavoro del Consiglio regionale, è una Commissione che si deve occupare di verificare non soltanto la coerenza tra i singoli atti e la programmazione generale dell'ente ma soprattutto esercitare un controllo sugli atti e sulle delibere della Giunta e dei dirigenti e in modo particolare sugli atti e sui contratti degli enti partecipati, cioè di tante e tantissime aziende che direttamente o indirettamente sono controllate dalla Regione Toscana. È un impegno arduo a cui si somma anche la verifica consuntivo del bilancio generale della Regione e del Consiglio regionale con il giudizio di parifica della Corte dei Conti, quindi un ruolo che insieme al Vicepresidente Pieroni, insieme alla Secretaria Silvia Noferi e a tutti i membri della Commissione stiamo svolgendo, ripeto, tentando di recuperare a questa Commissione il ruolo che le spetta di cerniera tra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta. Non mancando naturalmente di ascoltare anche le denunce, le segnalazioni per quanto possibile da parte di cittadini, comitati, associazioni che ci possano far notare ciò che possiamo approfondire nell'interesse generale. Mi fa piacere ovviamente continuare il lavoro nella Commissione Controllo che rappresenta uno strumento utile anche per tutto il Consiglio regionale per approfondire quegli aspetti di coerenza fra l'azione amministrativa del Governo regionale e gli strumenti e gli atti di pianificazione e di programmazione che invece sono propri dell'Aula e dell'Assemblea consigliare. Le cose da fare sono molte, avevamo già messo in cantiere una serie di attività che puntano sostanzialmente a rafforzare, a dotare di ancora più strumenti operativi questa Commissione e la cosa più importante, alla quale personalmente tengo davvero più di tutto e più di tutti, è quello di continuare a preservare il clima che si respira all'interno della nostra Commissione. Un clima dove le differenze sono elementi di reciproco arricchimento, dove c'è un confronto e un dialogo costante e dove si cerca di lavorare per arrivare a una condivisione degli obiettivi. Questo è l'impegno per la seconda metà della legislatura e sono convinto, tornando a ringraziare le commissarie e i commissari per la fiducia che mi è stata rinnovata, che riusciremo a mantenere questo impegno. In questi due anni e mezzo l'ufficio di Presidenza e tutta la Commissione ha fatto sì che diventasse qualcosa di istituzionale e soprattutto di prendere un pochino più forza all'interno proprio del Consiglio stesso, per cui siamo decisamente molto felici di questo percorso, di questo cammino, abbiamo già fatto delle cose interessanti, non l'ultima quella che è l'incontro che andremo a fare fra qualche minuto, per cui il futuro che cosa? Cercare di far capire e magari di allargare la platea di coloro che sono un pochino più scettici sul discorso dell'Europa, cercare di essere più vicini ai giovani, più vicini soprattutto alle scuole, per cercare di aprire ancora di più quelle porte che sono fino ad oggi troppo chiuse nelle istituzioni e far allargare proprio tutta la conoscenza di quello che dovrà essere il futuro di questa Europa. Un'Europa che va cambiata sotto certi aspetti, ma sicuramente un'Europa forte e decisa. Un'altra opera d'arte, cambiando argomento, va a arricchire il patrimonio del Consiglio regionale. Si tratta di Bambini Afghani, di Jonathan Soliman Avada, l'artista fiorentino che insieme al suo collega Gianluca Braccini era stato protagonista di una mostra di pittura grafica Enduring Freedom, ospitata negli spazi del Kennedy International House di Firenze nell'aprile del 2022. L'iniziativa aveva lo scopo di raccogliere fondi attraverso un'asta online a favore della popolazione afghana. E adesso appunto questa opera d'arte fa parte del grande patrimonio del Consiglio regionale. Un'altra opera d'arte va a arricchire il patrimonio del Consiglio regionale. Io voglio ringraziare Eterotopie perché alla fine di una delle più belle mostre che abbiamo ospitato in Consiglio regionale ha deciso di donarci quest'opera. Un'opera molto forte, un'opera che arriva dritta al cuore, un'opera che però manda un messaggio, il messaggio di costruire, cercare di costruire un mondo migliore che non può essere il mondo che ho alle mie spalle. La mostra Enduring Freedom ha visto un gruppo di giovani artisti cimentarsi con l'idea della guerra e tutte le immagini che sono collegate alla guerra e ai paesi che sono in guerra. hanno omaggiato queste tragedie con tanti lavori potenti a loro modo straordinari. Oggi ne donano uno al Consiglio regionale che le ha sostenuti in questa loro esposizione e facendo il catalogo della mostra e contribuendo all'esposizione che fu presso il Kennedy Center for Human Rights di Firenze. Hanno scelto di regalare al Consiglio una delle opere a mio avviso più belle ma anche più inquietanti tra quelle esposte che raffigura un gruppo di ragazzi che giocano con delle pistole giocattolo. Una immagine che non ci farebbe nessun effetto in un contesto pacifico nel contesto delle nostre città ma che nello scenario di un paese che si intuisce dal quadro essere un paese di guerra porta alla luce tutta la potenza distruttrice della guerra, dell'aggressività e come essa penetra poi nella quotidianità e nella vita di tutti. Io li ringrazio per questo gesto e spero che noi al Consiglio cercheremo di valorizzare quest'opera, di renderla visibile perché scuota molte coscienze e aiuti tutti a costruire un mondo dove ci si guarda gli uni gli altri consapevoli di ciò che vuol dire fare la guerra. E così si conclude anche il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutte le informazioni e le delucidazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra sette giorni Dentro il Consiglio. Grazie a tutti.